A Teramo il progetto per la realizzazione di un biodigestore anerobico dei rifiuti messi in campo dalla Team, società controllata dal comune che si occupa dell'igiene urbana e dal Mota, il consorzio che gestisce la raccolta dei rifiuti e altri servizi per conto di 11 centri dell'area interna della provincia di Teramo, si è classificato tredicesimo su circa 750 progetti del PNRR e decimo nel centro-sud. Un nuovo passo in avanti per arrivare ad incassare la somma necessaria volta alla realizzazione dell'impianto che si aggira sui 24 milioni di euro e che andrà a sostituire l'ex inceneritore di Carapollo. Sì, siamo soddisfatti per la posizione, soprattutto per il settore che ci interessa che è il centro-sud. Siamo in attesa adesso. Per noi questo tipo di impianto è fondamentale. Fondamentale perché? Perché siamo privi di impiantistica. Ci permette di sanare una ferita che c'è sul territorio, che è il vecchio inceneritore. Ci permette almeno di dare un risultato a tutta l'attività che svolge la Teramo Ambiente. La Teramo Ambiente ha una raccolta differenziata importante, però il tutto viene magnificato poi con il dover trasportare rifiuti in giro per la regione, anzi per l'organico a volte anche fuori regione. L'allestimento dell'impianto per l'estrazione di biogas da rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta porterà, secondo il Presidente Saccomandi, a numerosi vantaggi. Oltre ai risparmi abbiamo quello che ci interessa di più oggi, perché a tutti è caro il problema dell'energia, quindi riuscire a produrre anche un minimo di energia ci permette di fare un progetto utile, non solo a fini economici ma anche per i terzi. Possiamo dire che se non dovesse essere questa la strada ne troverete un'altra per realizzare il progetto? Il progetto deve avere un suo status per potersi reggere anche senza i finanziamenti, per cui è stato costruito per essere realizzato. Certo, naturalmente si dovrà cercare un istituto che possa creare un consenso e ci possa quindi stare accanto nella costituzione della parte finanziaria, questo è vero. Però, ripeto, le condizioni ci sono.